Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è ritiro. Hai bisogno di concentrarti sulle tue priorità. Trascorri un po' di tempo da solo e in tranquillità. Questa carta ti consiglia di passare un po' di tempo da solo per riposare, riflettere e rafforzarti. Non è egoista da parte tua ma è necessario. Gesù ci ha tramandato il concetto di ritiro spirituale come un modo per prendersi cura di sé, intensificando la capacità di prendersi cura degli altri. Lo stesso vale per te. Anche se credi di non avere il tempo o il denaro per partire, questa carta afferma che se stabilisci l'intenzione, tutto il resto verrà da solo. Consideralo un investimento che ti frutterà energia rinnovata, entusiasmo ed ispirazione. Il ritiro si ripaga da solo se lo consideri in questi termini. Non conta tanto la quantità, bensì la qualità del tempo che passi lontano dagli altri, dandoti il permesso di lasciare andare e semplicemente di esistere. Questo è il messaggio della buonanotte.